Dopo un'iniziale gavetta fatta di concorsi musicali e militanza in alcuni gruppi adolescenziali, Bersani, trasferitosi a Bologna, viene notato da Lucio Dallache nel 1991. Durante il cambio tour, lo fa esibire in apertura di ogni concerto. In questo contesto Samuele propone il proprio brano Il Mostro, incentrato sul tema dell'incomunicabilità e sulla storia di un mostro peloso a sei isampe, prima inseguito morbosamente da stampa e comunità scientifica e infine ucciso brutalmente. Il pezzo prelude al disco Ci hanno preso tutto. Che esce l'anno seguente, il successo è immediato grazie ad una canzone molto orecchiabile dal titolo Cicco e Spillo che, spopola nella stagione estiva. Nel 1995 esce Freak, il suo secondo album con cui conquista il consenso generale. Oltre 150.000 copie vendute 56 settimane consecutive nella top 100 filmy, Nielsen. Dello stesso disco fanno parte i brani Freak. Spacca a cuore Cosa vuoi da me. Nel 1996 scrive per Lucio Dallache il testo di canzone. Brano contenuto nell'album Canzoni rimasto in testa alle classifiche radiofoniche per ben quattro mesi. Il terzo album dell'artista intitolato semplicemente con tre asterischi. Pubblicato nel 1997 e conosciuto come Samuele Bersani. Il disco viene anticipato dal singolo Coccodrilli. L'album contiene Giudizi Universali, uno dei brani più intensi ed emozionanti scritti da Samuele con il quale nel 1998 si aggiudica il Premio Lunezia come miglior testo letterario.